Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente d'Intorni Show. Quest'oggi continuiamo con, come al solito, il poema celeste e con uno dei capitoli più importanti, ma vi faccio fin da subito un'anticipazione, ovvero che questo capitolo in particolare è molto lungo e molto denso e quindi verrà diviso in due parti. In questa parte andremo a esplorare un po' la parte più mistica del capitolo, che è anche quella iniziale, ovvero con Nietzsche e con due Sufi che entrambi hanno lavorato moltissimo nel Kashmir. Uno era proprio del Kashmir, l'altro invece già soltanto lavorato. Mentre domani uscirà un'altra puntata, che in realtà è sempre lo stesso capitolo, dove invece ci concentreremo su Nadir Shah, che è stato uno dei più importanti di Persia e che è protagonista di questo capitolo, e di Ahmed Shah Durrani, che è stato un altro grande, importantissimo comandante militare afghano. Detto questo, spero di non annoiarvi. Questa, onestamente, è la puntata che più di tutte volevo fare, e proprio per questo, diciamo, in un certo senso è iniziata la serie, proprio per parlarvi di questo capitolo. Detto questo, non perdiamo altro tempo e partiamo subito. La sede del filosofo tedesco Nietzsche Io dissi a Rumi «Chi è questo pazzo?» Mi rispose «E' un saggio tedesco. Il suo luogo è fra questi due mondi. Un canto antico è quello del suo flauto. Questo halage senza corda e patibolo, in un modo nuovo disse quelle antiche parole. Le sue parole furono ardite ed il suo pensiero grandioso. Spaccò in due gli europei con la spada del suo dire. Nessun compagno trovò la sua estasi, e statico lo considerarono pazzo. Gli intellettuali non hanno parte dei segreti dell'amore e della bellezza. Misero il suo polso in mano di un medico. Con i dottori non c'è frode di ipocrisia. Guai all'estatico che ha la sventura di nascere in Europa. Egli fu un halage straniero nella sua patria. Si salvò la vita dai preti e lo uccisero i medici». In questa prima parte, in questo primo brano citato, perché non sarà l'unico che vi citerò di questo omaggio, Agnice, chiamiamolo così, che dal mio punto di vista è stato bellissimo. Intanto perché non me l'aspettavo quando è iniziato il libro, e poi perché è veramente un misto di dolcezza e irreverenza incredibile. Ma andiamo un po' nel dettaglio. Qualcuno di voi magari non ha ascoltato la puntata precedente, anzi, due puntate fa. Due puntate fa vi ho parlato di questo personaggio, Halage, che viene citato proprio apertamente. Chi era costui? Facciamo un riassunto per quelli che o non si ricordano o che non hanno ascoltato. Halage fu un mistico persiano molto importante che sostanzialmente è ricordato nella storia perché ad un certo punto, in una sua estasi mistica, disse la seguente frase. An-al-Haqq vuol dire io sono il vero, ma diciamo che sarebbe io sono il vero con la V maiuscola, nel senso che questo nome Al-Haqq vuol dire la verità, ma è anche uno dei nomi di Dio. Quindi in sostanza quando lui disse questa cosa venne accusato di blasfemia, venne ucciso in male maniera, eccetera. E sostanzialmente Muhammad Iqbal, che è lo scrittore di questo poema celeste, paragona la figura di questo Halage a, appunto, Nietzsche. Che effettivamente, se ci pensate, è assolutamente vero. Nel senso che Nietzsche disse la famosissima frase Dio è morto. E in un certo senso, quello lì, diciamo che ha detto l'opposto, però siano sempre sulla stessa falsariga. Nel senso che uno ha detto io sono diventato Dio, in un certo senso, anche se lui non intendeva proprio quello. Poi, se siete interessati, andate a recuperarvi due puntate fa. Mi sembra che sia quello di Giove, perché lì lo spiego bene, non voglio perdere troppo tempo. Detto questo, il paragone è azzeccatissimo ed è veramente il punto centrale quasi del libro. Anche perché, se ci fate caso, si chiama Al di là dei cieli, questo capitolo. E, magicamente, c'è proprio Nietzsche. Un omaggio, secondo me, bellissimo e che ha una seconda parte. Quindi, non voglio dilungarmi così tanto, visto che, appunto, ci sarà un'altra parte a breve, proprio di Nietzsche. Non vera in Europa un uomo esperto nella via. Perciò la sua melodia eccedette la forza della corda del suo liuto. Nessuno indicò a quel viandante la via e cento inconvenienti occorsero il suo viaggio. Era moneta e nessuno ne provò l'assaggio. Fu teorico dell'azione e nessuno lo rese un uomo d'azione. Un amante che si perse nel suo sospiro d'amore. Un viandante che si smarrì nel suo cammino. La sua ebrezza infranse ogni duro ostacolo. Si strapò da Dio e si stagliò via anche da se stesso. Vole vedere col suo occhio esteriore il mistico complesso dell'amore e della potenza. Vole che da acqua e fango spuntasse quella spiga che solo può germogliare nel seminato del cuore. Ciò che egli cerca è lo stadio della potenza divina. E questo stadio sublime è al di là della ragione e della saggezza. La vita è il commento dei simboli del Dio. Non c'è e se non sono stazioni dell'Io. Egli si arrestò al non c'è e non giunse fino al se non. Scomparve ancora ignaro nel senso di servo di Dio. Innanzitutto oltre alla poesia. Cioè se io avessi un omaggio da un grande scrittore così cioè vabbè mi commuoverei e non solo. Vabbè queste sono questioni mie. Detto ciò qui si approfondisce il discorso che facevamo prima e che se ci pensate è anche lo stesso che Muhammad Eqbal fa per Karl Marx. Abbiamo trattato di tante figure molto interessanti e Karl Marx è stato uno tra l'altro dei primi. Non mi ricordo esattamente il cielo. Però mi sembra... No, il cielo di Mercurio. Lì ne parlano. Detto ciò, di Marx lui sostanzialmente cosa diceva? Diceva che aveva delle buone intenzioni, un cuore credente ma un cervello ateo. E questo fatto diciamo che gli impediva di andare oltre a dare una semplice sussistenza all'essere umano nel secondo Eqbal senza far sì che questo si sviluppasse ulteriormente diciamo. Questa è una semplificazione. Anche di Nietzsche lui dice sostanzialmente oltre a essere finito nel posto sbagliato perché se fosse effettivamente capitato in Medio Oriente Halaj per carità è morto, l'hanno ucciso e tutto. Però quando fecero questo processo ad Halaj ci impiegarono ben sette mesi per formulare il tutto. Probabilmente se Nietzsche fosse capitato dopo magari esprimendosi in maniera diversa però sicuramente sarebbe stato più apprezzato. Infatti tra l'altro non so se avete colto la battuta di prima che dice si è salvato dalla morte dal pativolo però l'ha mandato dai medici e ha detto che è pazzo e via tutti. Fatto sta, concentriamoci un po' sull'ultimo punto che forse è quello più interessante ed è quello che merita un po' più di approfondimento perché mentre gli altri con questa premessa secondo me sono comprensibili l'ultimo effettivamente è più accedibile se si sa cosa intende. Muhammad Iqbal qui quando dice la vita e il convento dei simboli del Dio non c'è e se non sono stazioni dell'Io intende dire la frase La ilaha illallah che è questa frase celebre e che parte tra l'altro dalla shahada ovvero dalla testimonianza di fede dell'Islam. Questa frase che poi ha un prosieguo per essere chiaro cioè Muhammad o Rasulullah vuol dire essenzialmente la ilaha non c'è Dio il Allah all'infuori di Dio sarebbe la traduzione perfetta poi per convenzione si lascia Allah per non confondere diciamo con il Dio cristiano però che sono lo stesso specifico però lui dice essenzialmente lui è arrivato al non c'è Dio ma gli è mancato il pezzo dopo all'infuori di Dio e questo tra l'altro è molto interessante il commento che fa Bausani perché lo lega anche tutto un aspetto un po' della poesia persiana ovvero adesso io non sono così esperto da poter dire eccetera infatti non voglio adentrarmi ne tratterò in maniera proprio superficiale però diciamo che una delle figure è questo fatto della distruzione della ricostruzione diciamo che in un certo senso lui si è formato alla distruzione la ilaha ma non è riuscito ad arrivare alla parte finale appunto quella della ricostruzione quella dove c'è una rinascita questo perché come avrete intuito diciamo che Iqbal in questo poema celeste di fatto ci sta descrivendo una sorta di super uomo muslim ok quindi in un certo senso lui vede proprio l'islam come forza distruttrice non so come dire cioè che l'islam effettivamente quando è arrivato ha spazzato via due milioni di cose pensate banalmente a tutta la questione della schiavitù che poi per carità purtroppo è rimasto in alcuni paesi arabi in alcuni paesi musulmani e via di scorredo per carità oggi no però diciamo che anche il corano non è riuscito a affermare parte di tutto questo però ha ribaltato veramente gli ordini di tutto c'è una parte bellissima che ho trattato ancora nel cielo della luna che sostanzialmente descrive Muhammad effettivamente come un vero e proprio rivoluzionario sotto due punti di vista perché lui effettivamente ha spazzato via tutto quello che c'era prima per costruire una civiltà che ancora oggi è considerata da molti come giusta come una delle prime società effettivamente dove regnava appunto la giustizia la fede la pace la pace per carità dopo che muore Muhammad non per troppo anche in realtà quando c'è Muhammad però diciamo che una società più giusta dove effettivamente moltissime persone nel corso dei secoli si sono identificate a tal punto da anche acquisire dei tratti io stesso sono diciamo ho scoperto dopo di avere delle lontane origini turche però nasco diciamo io tutti i sacramenti potrei sposarmi in chiesa volendo ok però pensiamo anche banalmente al caso del tutto sud-est asiatico per chi non lo sapesse il sud-est asiatico è uno di quei paesi dove l'islam di fatto non esisteva proprio zero in assoluto e ad un certo punto il marajà del luogo scoprirono fra virgolette l'islam si accorsero anche della bontà di questa religione eccetera e loro per i fatti loro iniziarono a islamizzare il proprio paese che prima era pagano e casi come questi ce ne sono una marea ed effettivamente penso che questo abbinamento di queste due anime che sono molto diverse sia halage sia diciamo eqbal ma ancora di più questo trio eqbal che scrive nice protagonista insieme a halage sia effettivamente molto interessante e metta molto in luce un aspetto dell'islam che per lungo tempo almeno in tempi recenti si è andato un po' a nascondere questo perché si aveva moltissima paura dell'arrivo fra virgolette dell'occidente ma si viveva in maniera sbagliata nel senso che effettivamente eqbal poi adesso se non parlo troppo di nice però molto probabilmente questa sarà una puntata dedicata a nice e basta quindi diventeranno tre cose fatto sta stavo dicendo si è messa poco in luce perché c'era un desiderio di conservare quello che c'era del passato eccetera perché bisognava resistere gli occidentali fra virgolette e tutto mentre eqbal effettivamente sono attacchi continui per carità qui dentro all'occidente cioè che poi lui è indiano quindi aveva anche la sua ragione però la bravura di eqbal secondo me sta nel andare a identificare anche dei modelli all'interno dell'europa all'interno dell'occidente se lo volete allargare che sono validi e che sono necessari per il mondo orientale tra l'altro lo vedremo nella puntata che uscirà domani perché Shah Durrani ne parla proprio apertamente di questo aspetto però ecco lui ha studiato anche in Inghilterra se non mi sbaglio ha si lavorato sia a Monaco di Baviera sia a Cambridge quindi molto esperto e qui mette in luce veramente quello che si deve fare io ho pochi altri ho letto di questa portata con queste idee ben chiare tanto che dalle sue idee è nato il Pakistan volevo ricordare questo aspetto l'altro grande così è un suo connazionale che si chiama Sin Hamid di cui ho parlato più e più volte e Samir Kassir dal mio punto di vista che invece è uno studioso purtroppo stato ucciso assassinato in circostanze ancora poco chiare e che scrisse appunto infelicità araba che dal mio punto di vista è ancora tutt'oggi un must detto questo oggi sarà una puntata solo dedicata a Nietzsche ho cambiato idea mentre la facevo e spero vi piaccia domani parliamo diciamo dei mistici perché sennò c'era troppa roba e dopo ancora ci saranno invece questi Shah di Persia e dell'Afghanistan non volevo caricare troppo ma spero che appreziate